Buonasera a tutti, un posto meraviglioso, un privilegio essere qui, Paolo Giordano, grazie, sono molto contento di dialogare con te. Ci hanno dato un titolo larghissimo, dove si potrebbe parlare della qualunque, dalla pandemia alla guerra. Abbiamo vissuto un tempo, e stiamo vivendo un tempo, di cose inimmaginabili, di cose che non potevamo nemmeno prevedere. Mi è capitato spesso di pensare che se avessi visto un film di quelli hollywoodiani, dove si diceva che un virus avrebbe colpito la Terra, e questo virus contemporaneamente avrebbe chiuso in casa oltre 4 miliardi di persone sul pianeta. e il virus imponeva la chiusura delle scuole, di tutte le scuole, in tutto il mondo, di tutti gli uffici, la gente avrebbe lavorato da casa, si sarebbero sospesi i campionati di calcio, basket, rugby, football americano, di qualunque cosa, gli sport, avrebbero chiuso tutti i negozi, tutti i ristoranti, si sarebbe potuto uscire solo per andare a fare la spesa, o da soli per fare il giro dell'isolato, muniti di permesso, che veniva controllato. e dovevi dimostrare che stavi andando realmente a fare la spesa nel supermercato più vicino. In alcuni paesi un drone avrebbe controllato quelli che erano per la strada e gli avrebbe detto di tornare a casa. E cosa ci avessero detto? Che i cieli sarebbero stati vuoti perché non sarebbero stati più aerei in volo, se non gli aerei medici o che trasportavano materiali per le protezioni civili dei vari paesi, i treni fermi, le navi ferme, i container a terra. Ecco, io probabilmente avrei cambiato canale, perché avrei pensato che un film così, non mi viene un francesismo, mi vengono solo delle parole, era una cagata pazzesca, come avrebbe detto Fantozzi della Corazzata Potionchi. Allora, eppure è accaduto. L'impensato e l'impensabile è entrato nelle nostre vite. Se poi nella seconda, avessero fatto il ritorno, la seconda stagione di questa serie o di questo film, e avessero detto, e quando la pandemia inizia un po' a calare, ma poi vedremo come, e la gente inizia a respirare, scoppia, si arriva sulla soglia della terza guerra mondiale e si rincomincia a parlare di qualche cosa che pareva dimenticato, cioè il terrore della guerra nucleare, e c'è gente che ricomincia a comprare le pastiglie, si tornano a progettare o a riaprire i bunker antiatomici, allora avreste detto, vabbè, qui proprio gli sceneggiatori ci hanno dato dentro. Eppure tutto questo è successo e sta succedendo. Allora, questo secondo me è il tema. Quanto siamo attrezzati a recepire, a digerire, a interpretare e a raccontare l'inatteso, l'impensato, l'impensabile. Ci sono tanti dati, parto, Paolo, da un dato che ti vorrei porre, un dato comune, poi magari vediamo anche i dati non comuni tra le due cose, un dato comune tra il tema del virus, la pandemia e invece questa guerra. Il dato comune, uno dei dati comuni, è l'emergere delle negazioni, la negazione. Da un lato la negazione del virus, la negazione delle cure, la negazione del fatto che si dovesse stare in casa, la negazione dell'utilità dei vaccini, la negazione del pensiero scientifico. Dall'altro lato, oggi c'è la negazione delle... Buongiorno Arianna, grazie per averci ospitato in questo posto meraviglioso, anzi buonasera. In questo caso invece abbiamo un tipo di negazione che potremmo simboleggiare con una parola, la negazione dell'invasione, la negazione del fatto che ci sia un aggressore e un aggredito, la negazione che sia in corso un conflitto impari. E spesso i negazionisti coincidono, sono rimasti seduti sulla stessa poltrona dello stesso talk show, hanno semplicemente cambiato argomento. Allora Paolo, che cosa tiene insieme tutto questo? Intanto buongiorno a tutti, ciao Mario e grazie di essere così tanti. Sono le prime volte comunque che ci si trova davanti un pubblico ancora. Pensavamo di arrivarci in effetti con un certo sollievo, invece ci arriviamo con un carico, con una specie di surplus di angoscia a questo ritrovarci che è in sé un po' paradossale. Voglio partire da quello che dicevi sull'impensabile, aggiungendo una terza crisi, non per amore di catastrofismo, ma perché in realtà la categoria dell'impensabile io l'ho trovata per la prima volta molto ben espressa in un saggio di Amitav Ghosh, che dopo anni e anni continuo a consigliare dovunque, che si chiama La grande cecità, che potrebbe anche essere un titolo per molti dibattiti di quest'epoca, La grande cecità o le grandi cecità a cui siamo portati, e che ha come sottotitolo proprio Imparare a pensare l'impensabile. E Amitav Ghosh in realtà in quel saggio parla di cambiamento climatico, parla di cambiamenti climatici e di come i cambiamenti climatici, che sono già una delle sfide attuali, lo saranno in futuro e restano in sottofondo, poi schiacciate prima dal Covid, adesso schiacciate dalla guerra, ma continuano a essere purtroppo un tema tristemente attuale, come il grosso problema nell'affrontare questo tipo di crisi sia il fatto che sono per noi impensabili. Impensabili vuol dire moltissime cose, impensabili perché sono troppo grandi, impensabili perché sono troppo complesse, impensabili perché fanno troppo paura. Quindi davanti a questo genere di crisi scattano tutta una serie di difese psicologiche innanzitutto nelle persone, e di difese si tratta, di bias cognitivi, di pregiudizi, di reazioni istintive, irrazionali, ma mascherate dall'essere razionali, che in realtà in questi anni stiamo vedendo su altri argomenti. Il Covid, come giustamente l'hai presentato tu, ci ha portato in un regime di totale impensabilità. E' strano perché ormai, ma già questo un anno dopo, per noi la crisi del Covid ha cominciato a sovrapporsi quasi come un sinonimo di lockdown. In realtà il lockdown è stato un pezzetto della crisi del Covid, è stato l'inizio traumatico, quello più impensabile, ma poi siamo andati avanti. Ed è stato chiaro che quello è stato un momento di totale impensabilità, più che di imprevedibilità. E lo è, ahimè, da 40 e pochi più giorni, il fatto di avere una guerra così vicina. Tu sei andato, io so che tu sei andato fino al confine ucraino in macchina. Cioè, l'idea che sia una guerra di un posto che uno può raggiungere in macchina, in una botta unica. Tra Milano e il più vicino dei confini ucraini c'è la stessa distanza che c'è tra Milano e Reggio Calabria. Questo è un dato fisico, no, questo? L'idea che una guerra di quel tipo, cioè come quella che si sta producendo, si produca alla distanza di Reggio Calabria è un dato di impensabilità per noi. Nel senso che viola proprio un dogma con cui almeno io sono cresciuto, ma forse ancora di più la tua generazione è quella leggermente prima. È strano per me ripensare ad Amitav Ghosh proprio perché in tutto, parto prima per non mettere solo cose negative in campo, poi magari questo lo chiedo anche a te, se ci vedi una preparazione all'impensabile. Però un primo tema più di speranza è questo secondo me, che in realtà esistono dei modi per prepararsi all'impensabilità e purtroppo passano tutti dalla fatica dello studio, dalla fatica dell'informazione di un certo tipo, non passano da certi meccanismi molto in atto nel presente e tuttavia quel libro di Amitav Ghosh per me è stato senza saperlo molti anni prima una strana preparazione al Covid. Alla fine se tu cominci a entrare leggendo e studiando altre cose nell'idea che si possano produrre delle situazioni che cambiano completamente il regime delle cose in qualche modo modifichi già il tuo assetto. Quello che io vedo in comune molto di questo negazionismo dico molte cose poi magari le spartagliamo meglio quello che vedo in comune molto forte di questi due negazionismi ci sono delle cose che non capisco onestamente mentre nel Covid le capivo capivo la difficoltà di mettersi al passo con dei temi scientifici capivo la paura di essere infettati capivo la strumentalizzazione che poteva avvenire di certi temi questo nuovo che non so si chiamare negazionismo ma questa relativizzazione spinta credo particolarmente spinta in Italia non so per quale motivo forse lo sai meglio tu di me rispetto a questa guerra la capisco meno ma sicuramente c'è un tema forte in comune tra queste due forme di resistenza a una novità così dirompente che è proprio quella dell'accettazione del cambiamento di un cambiamento drastico la nostra psiche è fatta in modo da rifiutare istintivamente l'ipotesi di un cambiamento drastico non è così che funzioniamo quando è stata scoperta la deriva dei continenti ad esempio quando sono state trovate negli strati geologici le prime tracce del meteorite che ha fatto estinguere i dinosauri ci sono voluti anni perché gli scienziati accettassero che poteva essere successo qualcosa di così diverso dalle opinioni è quello che io vedo un po' succedere due anni fa adesso di nuovo e c'è un corollario un po' più spiacevole diciamo questa è la parte che si può perdonare di più la parte che si può perdonare di meno forse che se decidiamo di accettare che ci sono dei cambiamenti grossi in atto cioè che c'è un virus molto pericoloso di cui non sappiamo niente che circola e che l'unico modo all'inizio è quello di starcene a casa o se accettiamo che ci sia una guerra a quella distanza che richiede un qualche tipo di azione da parte nostra beh c'è una richiesta di coinvolgimento quindi c'è una parte istintuale che dice anche mettiti dove non ti viene richiesto un coinvolgimento mettiti dove puoi non agire dove puoi non stare nelle norme o puoi magari non farti coinvolgere da questo conflitto ma non so se sono le stesse cose che vedi tu però il tema del coinvolgimento se ci pensate il quando il covid è arrivato non è una è stata una è una pandemia una malattia di cui sostanzialmente non abbiamo visto niente perché le persone che sono morte sono morte sole sono morte senza che ci potessero essere per un lungo periodo persino i funerali sono morte senza i parenti vicino e quindi è stato un è mancata una cosa di lutto anche collettivo noi avevamo questi numeri sostanzialmente tutti ci ricordiamo il primo contagiato ci ricordiamo non so i primi morti io ricordo i due anziani che giocavano la carta insieme a boeuganeo erano forse i numeri due e tre quelli te li ricordavi quando è iniziato ad arrivare a 20 ci sembrava un numero incredibile 20 morti 50 100 200 500 900 morti al giorno e pensavo io tante volte se deragliasse un frecciarossa un treno alta velocità a carico completo se non sbaglio se non vuole dire una bestialità ma mi sembra che ci siano 450 460 posti deragliasse per quanto tempo parleremmo e morissero tutti di questa strage rimarrebbe dentro di noi in maniera profondissima ecco noi abbiamo avuto giorni negli anni passati in cui deragliavano due treni al giorno e morivano tutti però non li vedevamo non c'era una foto non c'era un luogo era tutto diviso allora spesso razionalizzare ciò che non si vede e io dicevo ecco il problema è che ci può essere la gente che relativizza sminuisce dice ma no ma non è vero eccetera eccetera perché perché non vediamo ma se vedessimo non sarebbe possibile questo comportamento oggi invece sta succedendo una cosa il contrario assoluto cioè noi abbiamo la guerra più visibile probabilmente della storia dell'uomo quando Bush padre attaccò Bagdad nella guerra in Iraq c'era c'era soltanto un giornalista della CNN Peter Arnett e mandava questi racconti per il resto noi cosa succedeva nel paese non lo vedevamo quante guerre sono successe della Siria abbiamo saputo fino a un certo punto poi hanno incominciato a ammazzare o a rapire giornalisti e fotografi e sostanzialmente si sono spenti i nostri occhi e le nostre luci sul conflitto della Siria sul grande genocidio ruandese che cosa abbiamo visto? Sostanzialmente niente allora qui invece noi vediamo tutto in tempo reale cioè noi abbiamo visto l'altro giorno un carro armato che che spara col cannone sopra un ciclista e quindi siamo di fronte al fatto che noi vediamo la guerra in tempo reale quasi in tempo reale abbiamo le immagini social ormai se uno passa guarda Instagram sono più i video con scritto immagine sensibile e che quindi è schermata e tu se vuoi la vedi se no no che poi ormai quella lì è una roba un po' pornografica è come un richiamo vai a vedere secondo me schermano anche roba che si potrebbe non schermare per fare contatti ma e allora ti chiedi ma come mai vediamo tutto eppure ci sono persone che di fronte a un missile su un ciclista per prendere un piccolo fatto o oggi oggi il missile sopra le persone che aspettavano di scappare dalla parte est dell'Ucraina alla stazione non sappiamo adesso se hanno 35 50 morti comunque una strage devastante in mezzo alle persone le valigie quando abbiamo visto quella famiglia con che scappava Irpin soborgo sul fiume di Kiev cioè noi abbiamo visto tutto eppure di fronte a tutto c'è gente che che fai distingo che dice sì però ma non so e allora qua e questo per me è la cosa più angosciosa perché entriamo realmente definitivamente nell'era delle bolle in cui si vive abbiamo sempre detto ci sono delle bolle soprattutto nel mondo costruite anche grazie ai social per cui le persone vedono e ascoltano sempre in una cassa di risonanza quelli che la pensano come lui e non si confrontano con quelli che la pensano diversamente ma qui siamo non più alle interpretazioni o alle opinioni cosa sana e benvenuta contrastanti alternative siamo ai fatti alternativi questa parola fu coniata alternative facts per parlare di Donald Trump e emerse la prima volta il giorno che ci fu l'inaugurazione della presidenza Obama era come tutte le volte a gennaio il 20 di gennaio il 21 di gennaio e per l'inaugurazione di Trump c'era questo grande spazio che sta tra il Capitol Building il Campidoglio dove c'è il Parlamento e il memoriale di Lincoln questo grandissimo il mall questo spazio era pieno circa per un terzo con Barack Obama otto anni prima era stato completamente pieno ma Trump disse che per lui c'era molta più gente che per Obama il New York Times pubblicò le foto e disse ma forse non è proprio così aveva il triplo Obama Trump con sprezzo del pericolo ma sostenuto da milioni di persone disse foto truccate del New York Times d'altronde il New York Times è un giornale liberal e quindi deve e quindi è incominciata una stagione di fatti alternativi però io non avrei mai pensato mi sembravano quasi grotteschi mai avrei pensato che saremmo arrivati di fronte alle immagini di una guerra a poter dire sì però ma a cambiare a sminuire a dire lì entriamo nel campo della psichiatria a dire che 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 ci sono attori che recitano facendo i morti eppure è accaduto sta accadendo questo io però non temo che non sia il campo della psichiatria purtroppo cioè che sia veramente una nuova normalità cioè in fondo un festival del giornalismo e dell'informazione come questo da anni forse non dovrebbe preoccuparsi di altro se non della crescente crescente ormai sembra abbiamo raggiunto degli apici polarizzazione irriducibile e non più ricostruibile su quasi ogni argomento peraltro e con io mi sento un po' a metà tra i due argomenti ma è facile parlare dei due argomenti che pur le attinenze sono molto significative però si rischia poi di fare di essere generici su delle cose proprio sul passaggio tra covid e guerra io mi sono accorto di una cosa l'ho realizzata oggi cioè che fino a cinque mesi fa il mio feed di twitter era 80% sul covid sui virus su epidemiologi virologi a guardare il mio feed di twitter oggi sembra che io mi occupi solo di ucraina è quasi sparito il covid dal mio twitter ed è tutto sull'ucraina ora io non ho fatto niente tutto quello che ho fatto è stato nell'ultimo mese seguire delle nuove persone che mi sembravano interessanti da seguire sull'evoluzione di questa situazione ma l'algoritmo ha imparato evidentemente che io mi sto disinteressando a quell'altro tema su cui sono stato due anni e che ora mi interessa questo e quindi autonomamente in modo come dire che precede il mio movimento di animo mi ha cambiato completamente la realtà da sotto gli occhi ora il potere di questi media che noi abbiamo come dire a un certo punto idolatrato a un certo punto criticato in assoluto però c'è un potere oggettivo sul modo in cui stanno veramente modificando un atteggiamento intanto psichico ma poi che decide perché dietro quello ormai vengono le posizioni prese dai quotidiani prese dai talk show e quindi tutto questo come dire si va sempre più acutizzando ma in realtà credo che lo possiamo vedere banalmente nel nostro modo di informarci quanto siamo ormai incastrati in certi tipi di bolle questa cosa che dicevi del negare il dato di realtà con il covid è successo moltissimo adesso sta succedendo di nuovo con le immagini di buccia l'altro giorno è stato evidente nel senso che quelle immagini interrogavano direttamente tutti tutto il mondo tutta la comunità internazionale giornalisti commentatori e quindi era impossibile non prendere posizione rispetto a quello e quindi si è visto un altro tipo di dall'opinione scivolosa che magari si poteva tenere fino a pochi giorni prima si è arrivato a quello che dicevi tu negare il dato di realtà cioè cominciare a dire quello è una ricostruzione voglio tornare un secondo su quello che dicevo all'inizio su Amitav Ghosh e sulla preparazione cioè anche questo potrebbe coglierci del tutto a me ha colto questa volta del tutto impreparato però poi c'è un film che ho visto che è un film che è data molto prima di questa guerra qua un film di un regista ucraino che si chiama Loznica e se vi capita anche questo è un consiglio che vi do calorosamente il film si chiama Donbass e è stato girato qualche anno fa è andato a Cannes in quel film che era già nella guerra ma ovviamente prima dell'invasione su larga scala questo racconto di come la propaganda alteri i dati di realtà e trasformi la propaganda russa e trasformi i dati di realtà rovesciandoli completamente in un contrario era già completamente presente in quel film quindi come dire una realtà è un'acquisizione un po' nuova e scioccante per noi ma evidentemente non è nuova di quella situazione anche qui il punto è molto quanto ci siamo arrivati preparati a tutto questo e c'è un altro punto che secondo me dà l'idea della gravità di questo che tu dicevi dell'alternative facts che noi l'abbiamo pensato almeno io sono cresciuto con l'idea davvero che il fatto che ci fosse il giornalismo il fatto che il mondo fosse globalizzato ci portava tante cose che potevano dispiacerci ma una ce la portava di buono cioè che i riflettori erano finalmente accesi quasi dappertutto cioè che un altro Rwanda un altro guerra dei Balcani in quel modo fosse qualcosa di difficile oggi perché abbiamo occhi dappertutto e bene in questo mese scopriamo che non è così che questo non basta perché esiste una totale realtà alternativa di quello che sta succedendo proprio rovesciata come nel multiverso quello vero non quello di Zuckerberg ma il multiverso quello per i fisici cioè dei universi separati in cui valgono altre leggi della fisica e questo universo dove la realtà è completamente rovesciata non è uno staterello di centomila abitanti in un posto sperduto è la Russia ed è non solo la Russia sono pezzi interi del mondo quindi in realtà questo vivere in dei multiversi deve diventare un nuovo modo di pensare credo le notizie della realtà cioè tenere conto del fatto che davvero non c'è noi continuiamo a credere perché se no non saremmo un festival come questo che ci sia la realtà del fatto ma questa di per sé non è sufficiente a nulla in realtà può essere veramente trasformata nel suo esatto contrario perché di questo stiamo parlando cioè probabilmente bucia anzi quasi di sicuro in Russia è o una messa in scena o è un'azione del battaglione Azov che ha ucciso le persone poi l'ha messa in strada per dare la colpa cioè tutto può essere rovesciato in questo modo ma come si continua a fare informazione in un mondo come questo per me è una domanda non ovvia ecco ti dico ti apro una parentesi come si continua a fare informazione io che ho provo molta irritazione di fronte a quelli che appunto interpretano in un modo diverso in cui tu gli parli di bucia gli parli dell'invasione gli parli dell'attacco e dicono sì però la Nato si era avvicinata troppo sì però il punto non è che non si possano discutere i pre i post le ragioni i torti eccetera però bisogna partire da un dato comune bisogna partire da un dato comune e dire sì ok c'è un paese che ne ha invaso un altro c'è stata un'invasione violenza c'è una differenza tra le democrazie e le non democrazie solo per il fatto già quelli che qui nei dibattiti televisivi dicono difendono trovano le ragioni della Russia e dicono eh però qui invece c'è il pensiero unico già fa ridere perché sono invece in televisione a dire la loro differente dagli altri e dicono che c'è il pensiero unico cosa che in Russia non sarebbe possibile basta che ci siano persone che quando quando hanno arrestato quelli che protestavano con un cartello senza suscrito niente se ci pensate è proprio il disvelamento del tutto cioè anche se io alzo un cartello per dire non dico nulla perché vorrei dire tanto ti porto via ti arresto di fronte a questo non possiamo non dire prima di tutto no ok c'è una differenza sostanziale perché se noi perdiamo di vista per esempio la differenza sostanziale che c'è tra la democrazia e la non democrazia allora anche perché il dato del dibattito è figlio della democrazia per cui se tu vuoi fare dibattito prima di tutto riconosci la differenza tra la democrazia e la non democrazia detto questo invece mi dispiace che siccome lo scontro si il dibattito si radicalizza sulla negazione dei fatti perde invece la possibilità di cercare di comprendere comprendere non giustificare non spiegare comprendere le regole che esistono come tu dicevi da fisico nel metaverso nei mondi alternativi dove esistono regole diverse è evidente che in Russia il punto di vista del mondo la lettura del mondo è completamente diversa dalla nostra invece a me cercare di capire come in Russia e perché vedono le cose in modo completamente diverso è una cosa che mi affascina e che mi piacerebbe poter discutere il problema è che se mi trovo di fronte a uno che dice che nega i fatti allora non si può neanche aprire quella discussione perché altrimenti tu hai accettato la negazione del fatto invece ci sono tantissime cose nella psicologia russa nel crollo del comunismo in quello che sono stati gli anni dopo perché tu dici perché lì la democrazia comunque non la cercano non la vogliono perché quando ce l'hanno avuta per un breve momento è stato un disastro per loro e quindi non ha nessun tipo di appeal la democrazia ha molto più attrazione l'idea invece della forza dell'orgoglio dell'onore ci sono cose mescolate con la religione misticismo ci sono un sacco di cose interessanti che varrebbe la pena discutere il problema è che non riusciamo a discuterle perché nel mondo dei fatti alternativi mancano non è possibile discutere delle sfumature o dei colori perché ogni tanto pensavo tanta gente una volta era una scuola di giornalismo e ho detto guardate che il mondo non è o bianco o nero e una studentessa mi ha detto ah ma che cosa ci vuole dire che dobbiamo fare giornalismo grigio e ho detto ci sarebbero anche i colori fino a prova contraria ci sarebbero mille sfumature di colore per raccontare il mondo non è che le cose stanno o così o così il problema è che nel momento in cui entri ci sono dei fatti e c'è la negazione dei fatti e sei o così o così è impossibile entrare in un campo perché se tu non delimiti se tu mi chiedi come si fa se tu non delimiti il campo da gioco e le regole del campo da gioco non puoi giocare dentro per discutere intendiamoci cerchiamo di comprendere i fatti perché se i fatti li neghi come possiamo discuterne e comprenderli allora questo qua è il punto che a me preoccupa ed è il punto se volete drammatico delle bolle c'è poi una cosa che ti porto in là che tu hai scritto anche in un articolo più o meno un mese fa che queste crisi hanno dei tratti comuni tu ne hai elencati alcuni la velocità in cui arrivano il fatto che siano veramente globali mondiali che colpiscono tutti la capillarità però a me il punto che affascina di più è la totalità cioè quello che dicevi tu del tuo feed di instagram di twitter arrivano queste crisi prima il covid adesso è la guerra e sono totalizzanti cioè occupano tutto lo spazio disponibile che sia spazio sociale spazio politico spazio economico spazio mediatico si prendono tutto cioè se voi ci pensate noi siamo passati da una discussione totalizzante sul virus ha una discussione totalizzante con un a me ha fatto interrogare oggi sono usciti i numeri ormai non fregano più niente a nessuno però i numeri delle copie cartacee dei giornali e hanno dei numeri drammatici il mese di febbraio io pensavo che i giornali avessero recuperato un po' di copie invece i giornali crollano alcuni più di altri cioè e allora mi sono chiesto perché perché sono crollati di più che nei mesi precedenti seppure c'era un fatto così grosso probabilmente proprio per questo perché l'altro giorno su uno dei quotidiani italiani ho contato sulla guerra 29 articoli 29 articoli allora neanche un ergastolano in isolamento se gli dessero un giornale riuscirebbe a leggere 29 articoli sullo stesso argomento nessuno allora il problema qual è è che di fronte a questa invasione alla fine che cosa fa uno sfugge si ritira scappa nega no allora forse se uno se si raccontasse anche qualcos'altro ci si sforzasse di raccontare qualcos'altro forse le cose secondo me ci sarebbe allora anche più più aria più respiro per digerire ora ho avuto questa proprio questa conversazione con un'altra persona un paio di settimane fa che aveva contato un giornalista che aveva contato il numero di pagine dedicate all'invasione dell'Ucraina nei giornali di quel giorno nei giornali italiani di quel giorno effettivamente io non volevo fare quello esterofilo per il New York Times lo stesso giorno ne aveva otto di pezzi però questo è un dato intanto effettivamente io eravamo in Francia effettivamente quel giorno Le Monde ne aveva decisamente meno aveva anche altro allora da una parte vi dico c'è un un nostro tipo di forse lo dico da osservatore non da esperto da osservatore mi chiedo forse c'è un una nostra tendenza alla alla monofocalizzazione però io mi ci metto completamente dentro a questa cosa nel senso che l'esempio del del feed di Twitter parlava molto più di me credo che parla anche dei social ma il social impara da me l'algoritmo impara da me quello che io voglio leggere e purtroppo capisce meglio di me quello che io voglio capire e mi rendo conto che in questo momento come immagino a tanti di voi se anche mi mettono dell'altro di interessante è molto difficile che io lo lo accolga perché la mia attenzione è fortemente focalizzata lì quindi anche questa è una forma di bolla in realtà cioè le nostre menti si stanno strutturando in modo da tenere in piedi una cosa alla volta su cui essere ossessivamente concentrati poi in questo caso uno come dire trova anche la giustificazione a tutto questo la giustificazione morale come la si trovava anche all'inizio del covid cioè una cosa così gigantesca così grande che cosa vuoi che me ne importi di tutto il resto che cosa vuoi che me ne importi di una pagina di costume o che cosa vuoi che me ne importi addirittura di una pagina culturale io che ho cominciato scrivendo solo sulle pagine culturali ho un problema da due anni e mezzo lo confesso nel senso che non riesco a trovare quelle cose della realtà attuale lì e mi rendo conto che questa è una grande perdita però perché la preparazione a queste crisi avviene proprio in quelle pagine non nelle 50 pagine di cronaca del giorno però invece secondo me non è così perché se voi guardate cioè nei due anni di pandemia si sono venduti una montagna di libri e non erano libri che parlavano del covid erano libri che parlavano d'altro e quindi le persone avevano voglia di uscire di andare appena potevano oppure li compravano online di comprare libri di guardare altro guardate in questo momento se guardate che cosa che cosa si guarda su Netflix per dire non so reinventing ganna che tutto ha a che vedere meno che con la guerra cioè non ci sono prodotti che parlano di guerra allora nei mondi altri allora perché il giornalismo non vuol dire che secondo me guarda che il fatto di tenere presente che esistono anche altre cose che stanno continuando ad accadere rende possibile avere anche un po' una lucidità per vedere con un po' più di obiettività quello che accade perché invece queste onde sono talmente alte che a un certo punto uno affoga dentro le immagini che vede ovunque e tra pochi giorni ma già si vede le persone non ne vorranno più sapere e la guerra uscirà dalle nostre teste continueranno a morire ma incominceranno a morire non visti e in silenzio ma non perché la guerra è finita ma perché noi ne abbiamo avuto troppo tutto insieme e e e e non siamo riusciti a digerire quello che accadeva questo poi è dato dal anche dal ciclo informativo che oggi è un ciclo 24 ore su 24 su tutto se voi pensate che anche i momenti più drammatici della storia prendiamo forse il momento più drammatico della storia d'Italia del dopoguerra sono stati in momento non so la strage di Bologna o o il rapimento di Aldo Moro l'uomo che doveva diventare presidente della Repubblica rapito e però tu leggevi il giornale la mattina sentivi il giornale radio poi avevi il giornale e poi c'era il telegiornale la sera tra quei due momenti c'era del tempo in cui uno pensava rifletteva digeriva parlava con le persone in ufficio al bar a casa tavola e diceva mai visto moro ma cosa starà succedendo c'era del tempo per elaborare quello che stava accadendo oggi invece in tutti gli orari della mattina del pomeriggio della sera ovunque su in televisione in radio sui social tu hai continuamente un aggiornamento e io lo vedo forse è colpa mia che ho una montagna di notifiche di giornali che seguo di siti che seguo sul telefono per cui ogni cinque minuti mi arriva una notifica per cui io sto continuamente su e però è successo questo e anche questo e anche questo e anche questo e questa cosa qua mi fa pensare ogni tanto di essere sulla ruota del 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 criceto e tutta questa cosa ci impedisce di digerire quello che noi guardiamo ma infatti io non ti sto dicendo che come dire che sia giusto io so che è una malattia questa qua e che queste grandi crisi appunto che scoppiano in questo modo e che poi finiscono per accompagnarci giorno e notte letteralmente perché i primi giorni di questa invasione i primi giorni di covid io avevo proprio una sintomatologia da stress post-traumatico non so come si chiami esattamente però aggiornavo giorno e notte letteralmente allora questo è chiaro che di nuovo è una cosa che è molto legata ai mezzi però perché come dicevi tu finché c'era un'informazione che uno aveva in certi punti della giornata e poi che ti lasciava sostanzialmente degli intervalli ti potevi sganciare da tutto questo adesso se sei uno tendente al al farsi al prevalere dell'angoscia rispetto a delle situazioni in atto beh è un mondo molto complicato in cui vivere in cui devi trovare veramente delle strategie su come gestire questo sempre rispetto al mezzo c'è mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi che per me viene sempre dal dilagare del mezzo social ma questo lo chiedo a te invece magari una mia falsa percezione storica del giornalismo cioè esattamente come prima con il covid e adesso ancora di più forse perché con il covid tanto quanto c'erano molte cose da spiegare quindi ogni tanto si diceva zitti tutti adesso si ascolta il professore e quindi arrivava il virologo tutti i virologi erano varie estrazioni che spiegavano un pezzo tu che li conosci come stanno i virologi in questo momento improvvisamente dimenticati non suona più il telefono tu li conosci svariati ogni tanto mi arrivano dei libri dei libri però c'era da spiegare in questo caso anche ci sarebbe abbastanza da spiegare forse un po' meno la situazione paradossalmente nell'essere terribile è più tristemente semplice però si nota una stessa cosa secondo me cioè che siamo in un momento in cui prevale in maniera enorme l'opinione cioè anche prima parlavamo della liquefarsi dei fatti ma liquefarsi dei fatti avviene anche un po' prima nel senso che spesso non viene neanche veramente enunciato il fatto si passa immediatamente all'opinione e accendendo la televisione si ascolta scambio di opinioni soprattutto un po' di testimonianza adesso perché abbiamo gli inviati un pochino ma in realtà nulla rispetto all'opinione e a me sembra che ci sia stato anche qui una specie di travaso perché in fondo sui social quello che si danno sono opinioni solo che questa cosa è come se avesse preso un po' la mano e non so più se il giornalismo così come è ti do una risposta tristissima dammelo è sempre stato così no che l'opinione costa poco cioè l'opinione è non ha costi di lavorazione tutti hanno un'opinione eh sì no ma eh ma se tu fai Arianna se tu fai vai a fare un lavoro sul campo che ti dura 15 giorni e ci metti tre giornalisti quello per fare poi magari per produrre che cosa un video da 15 minuti invece se voi ci pensate i talk che cosa sono c'è qualcuno che viene pagato ma ci sono tanti che non vengono pagati anzi che pagherebbero e e e e quindi che cosa sono durano guardateli durano ormai anche due ore tre ore quattro ore ci sono che durano cinque ore perché costano niente no costano niente non sto scherzando è così eh lo dicono i cioè sono i budget delle televisioni che lo dicono non costano niente per cui c'è gente che discute che dibatte poi più ormai ci sono i personaggi che più l'opinione fa rumore ed è grottesca e più attira qui abbiamo iniziato però tempo fa abbiamo iniziato con dai tempi in cui sgarbidava di matto e litigava e da lì poi io te lo scrivevo ieri sera io sono il peggiore in quello cioè io faccio proprio share cioè se c'è quell'elemento lì io guardo tu lo guardi no io no e e quindi voi capite che il problema è questo il problema è che la buona informazione è faticosa e costosa e prevede pazienza lavoro e non sempre è sexy invece lo show costa poco fa audience fa rumore e lo puoi prendere quando giro vedo dei personaggi che parlano di cui totalmente ignoro ignoravo fino a mezz'ora prima l'esistenza però non è che io ignoravo fino a mezz'ora prima l'esistenza del virologo però quella era colpa mia io non mi ero mai occupato di virus nella mia vita ero tenuto a non sapere chi fossero i virologi però se mi dicevano che quello lì aveva la cattedra a Roma la sapienza oppure dirigeva il laboratorio dello Spallanzani che è il primo ospedale d'Italia per questo dicevo va bene sarà se hai fatto questa cosa qua sarà titolato a parlare invece adesso vedi delle persone che portano delle opinioni sulla guerra che tu dici ma che titolo hanno comunque è stato così anche con il covid devo dirti nel senso che spesso c'erano esperti di un campo di un settore che si trovano a rispondere di settori in cui erano esperti quanto persone ma perlomeno ma perlomeno Paolo tu sei già uno scienziato perlomeno erano contigui i mondi avevano una laurea scientifica invece qui c'è gente che vedi in televisione delle cose che dici ma chi sono il problema è che i social ognuno ci mette la sua faccia e dice la sua in televisione non dovrebbe essere così dovrebbe esserci un minimo di statuto comune perché tu quando fai andare in onda una persona che dice la sua dovresti portare un filo di responsabilità di dire sto mettendo questa questa persona in video io questo lo contesto radicalmente non funziona però prima che chiudiamo c'è un'altra cosa che ti voglio dire che tu hai anche trattato che a me che è questa qua te la banalizzo così è un po' questa nostra incapacità naturalmente non è generica non è di tutti eccetera eccetera però un rifiuto di ci sono dei mondi che rifiutano l'idea della rinuncia della sofferenza e l'abbiamo visto uguale a un certo punto quando si metteva sul piatto bisogna salvare vite di persone e quindi bisogna fare delle rinunce bisogna rinunciare a un certo punto a Milano c'era un momento di delirio totale che sostanzialmente l'happy hour era un valore fondante della Repubblica e quindi tu dovevi avere il diritto all'happy hour che valeva quanto il diritto alla vita di altri e no gli altri quelli che muoiono scusate affari loro non vanno al bar a fare l'happy hour ma io che sono giovane ho più diritto di andare a fare l'happy hour non mi puoi levare questo diritto ma c'è proprio stato un momento di delirio che poi faceva così usciva poi i morti salivano a 900.000 e allora quelli dell'happy hour stavano per un attimo più tranquilli a casa consumavano in casa e poi dopo invece appena c'era uno spiraglio diceva adesso però riaprite questi bar riaprite questi ristoranti la surreale dibattito sul fatto che c'era il diritto costituzionale ad andare a sciare nel momento più duro della pandemia io ho gli sci nuovi ho fatto la sciolinatura e voi volete dirvi che ci sono 600 morti e che non posso andare a sciare cioè c'è stato un momento di delirio e l'altro giorno quando ho sentito che il presidente del consiglio metteva sullo stesso metteva diceva scusate sui piatti della bilancia il lavoro per dire dobbiamo non mandiamo dei missili e mandiamo i soldati italiani in guerra per difendere l'Ucraina ma spegniamo il condizionatore o mettiamo un golf in più spegniamo la luce in casa per finanziare meno la guerra di Putin e quindi da un lato c'è questo cioè finanziamo meno la guerra di Putin e speriamo così di spingerlo alla fine a una tregua e dall'altro lato c'è appunto spegnere l'aria condizionata o abbassare il riscaldamento mettere un golf in più e deve farli vedere metterli sullo stesso piano è perché sa che c'è molta gente che pensa no ma non me ne frega niente io voglio l'aria condizionata a me è successo ieri ieri ero particolarmente indignato per questa storia del gas russo vado un po' ondate e diciamo come molti credo dopo un primo momento di esaltazione quando l'Europa quando von der Leyen ha fatto il primo discorso sulle sanzioni in molti abbiamo avuto un sussulto di orgoglio in quel momento sta succedendo qualcosa c'è una reazione non era non ce l'aspettavamo poi sono passate le settimane e un po' questo è diventato ci si è un po' appiattito diciamo forse adesso alcuni di noi si aspetterebbero visto che c'è stato un triste salto di qualità nella gravità delle informazioni che ci raggiungono io penso che una dell'escalation che bisognerebbe fare sarebbe anche un salto di qualità nelle reazioni che possiamo avere rispetto a tutto questo e sicuramente uno degli elementi di discussione è questo del gas per cui nella frustrazione generale di ieri mattina ho abbassato di un grado il riscaldamento di casa che è un'azione stupida totalmente irrazionale che non modifica di niente poi stavo lavorando al computer stando molto fermo dopo tipo tre ore mi ero messo una seconda felpa a un certo punto ho avuto freddo e avevo proprio le mani gelate e ho rialzato il riscaldamento e ho rimesso come era prima e ho pensato pensa cioè se il fallimento riesce a cominciare qui in questa stanza e quindi io poi tendo a questa volta non sono affatto indulgente in queste settimane qua ad esempio però io lo sono stato molto nei due anni di covid quando gli ultimi mesi secondo me sono stati dei mesi brutti di dibattito pubblico cioè il dibattito no vax pro vax è diventato a un certo punto un dibattito brutto un dibattito rancoroso pregiudiziale aggressivo anche quando sai che la stai pensando giusta secondo me è molto importante ricordarsi che nessuno di noi è cresciuto con un'etica particolarmente sviluppata del sacrificio nessuno di noi è cresciuto con un'etica particolarmente sviluppata della rinuncia appunto quindi io tendo a un approccio un po' più morbido sugli individui cioè tendo molto a scusare le resistenze che gli individui fanno anche perché appunto ci sono dei cambiamenti grossi in atto e la paura è una reazione istintiva certo quando questi diventano invece sistema quando poi si traducono in scelte sistematiche o in non scelte sistematiche invece invece no quella è una linea secondo me molto più concreta ecco però per esempio qui a Perugia Arianna di solito al festival c'era intorno ai 18 gradi si poteva star fuori e lei ha abbassato la temperatura di Perugia a 12 quest'anno per in solidarietà appunto per per solidarietà diciamo però guarda che io credo questo che anziché fare delle politiche poi tra poco dobbiamo chiudere delle politiche di come dire di biasimo si dovrebbero fare delle politiche di sfida perché anche la rinuncia e il sacrificio se c'è un obiettivo è pieno è pieno di gente che si è messa a correre le maratone le ultramaratone che si allena a orari improbabili del giorno e della notte che va in palestra che fa le diete cioè per temi individuali si fanno un sacco di fatiche di sacrifici sarebbe bello se si trovasse nel discorso pubblico un tema di comune cioè se si dessero degli obiettivi perché è certo che se te lo dicono così ma se ci dicessero guardate noi se tutti se tu ti metti i guanti per scrivere il tuo nuovo romanzo che magari viene più vellutato vellutato e se tutti facciamo queste quattro cose queste cinque cose significa che ogni giorno diamo 500 milioni in meno alla Russia per gli armamenti e però facciamolo e ogni sera anziché dire ancora il numero dei contagiati che ormai a un certo punto dicevamo qualche mese fa vedrete che i contagiati torneranno a 30 mila adesso siamo a 100 mila e diciamo anziché dare il numero dei contagiati si desse ogni giorno il numero dell'energia risparmiata e lo si raccontasse come una conquista collettiva per fare un passo per la pace e allora queste qua adesso non vorrei sembrare troppo utopista però in questa città c'è il monumento a Capitini voglio dire è una città che ha una storia una tradizione in questo senso allora queste cose qui bisognerebbe provare a coinvolgere su questo su su delle idee che siano anche comuni perché naturalmente se lo lasci tu lo fai poi pensi tra te boh vabbè no lascio perdere perché perché hai la sensazione che tanto la tua è una goccia ininfluente ecco forse ricostruire anche come ricostruire cercare di ricostruire un dibattito con pazienza anche con pazienza di gente come me per dirti che se si trova di fronte uno che 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 inizia a dire boh si però Putin ha le sue ragioni eccetera eccetera vedo rosso forse dovrei avere la capacità di non vedere rosso di cercare un di costruire dei terreni di costruzione di 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 dibattito ok però io credo che ci sarebbe bisogno di di fare delle operazioni collettive in cui soprattutto dopo la pandemia torna un'idea del noi io ovviamente la penso molto peggio di te invece in questo nel senso che secondo me il covid come dire partiva con quella premessa e anche con quella promessa pur essendo stata ed essendo ancora in parte una tragedia di dimensioni senza precedenti partiva con quella promessa mi ricordo i discorsi dell'inizio il senso di tantissime cose ma su vari livelli devo dire anche su livelli non strettamente moraleggianti o bassi cioè c'era veramente l'idea che sarebbe stata una spinta una sterzata obbligata su certe tematiche ad esempio quella ambientale dico e invece no in realtà peggio nel senso che torno a quell'idea che tu dicevi che poi ho lasciato un po' lì di queste crisi che poi scoppiano e ad un tratto come gas espansi occupano tutto quando abbiamo voltato pagina del covid in realtà oggi non ci interessa più ma abbiamo lasciato un milione di cose in sospeso cioè qualcuno si sta ancora preoccupando del fatto che ci sia un piano pandemico ben fatto per la prossima qualcuno si sta occupando del fatto che non abbiamo una sorveglianza genomica degna di questo nome a un certo punto l'abbiamo detto in tanti i discorsi sono totalmente evaporati evaporerà anche questo purtroppo allora in realtà io trovo che in questo poi fa riempire tutto lo spazio all'attualità e anche nell'attualità stessa dare molto spazio a questi dibattiti di opinioni poi sia un diversivo meraviglioso ed estremamente efficace dal dover prendere veramente atto e dover compiere delle azioni e questo io lo trovo un atteggiamento preoccupante e montante anche era meglio chiudere sulla tua nota positiva mi rendo conto me ne rendo conto infatti adesso non so più come ritirarla su aria che dobbiamo dire ecco sì l'ho trovato ho trovato una chiusura guarda c'è un pezzo di società che ha pagato un prezzo altissimo e sono gli studenti delle scuole delle elementari delle medie delle superiori ma badate io sono non convinto certo che hanno pagato un prezzo alto con conseguenze anche pesanti i disturbi per esempio i disturbi alimentari sono aumentati l'autolesionismo ci sono temi forti di disagio psichico alto ci sono pezzi di comunità di giovani che la dad che già erano marginalizzati e che la dad ha completamente tagliato fuori quindi questo pezzo non ce lo dobbiamo dimenticare ma nella totalità dei ragazzi secondo me loro si porteranno dietro un patrimonio che invece rimane iscritto nel loro DNA che è diverso dal nostro io e te e praticamente tutti quelli che sono qua dentro siamo vissuti in un tempo di pace e di progresso ok e a differenza dai nostri nonni che avevano provato la guerra non immaginavamo questo loro invece hanno iscritto dentro di loro adesso l'idea che l'impensato può entrare nelle loro vite che la che la sorpresa negativa può entrare nelle loro vite che la sorpresa può entrare ciò significa anche però che la sorpresa può entrare non solo quella negativa può entrare il cambio di passo non tutto è impossibile c'è una sensibilità se tu guardi i dibattiti se io vi dico TikTok 90% di voi forse di più penserà che su TikTok ci stanno solo balletti ok invece su TikTok ci stanno un secco di dibattiti di fact checking sulle cose di dibattiti sui temi di genere su dibattiti sul razzismo di dibattiti sull'ambiente in forme nuove naturalmente non il dibattito fatto con un editoriale in forme nuove e secondo me questi ragazzi si porteranno dietro un patrimonio di consapevolezza che li distingue completamente da quelli che Michele Serra definiva gli sdraiati che sono le generazioni un pochino più grandi che venivano prima che poi neanche era sbagliato anche quella di definizione secondo me però c'era e allora io credo che invece loro si portano dentro una forza e a un certo punto parlavo con dei ragazzi che che avevano non avevano fatto la maturità come avrebbero dovuto farla e dicevano a noi ci hanno portato via la maturità che sarà di noi che generazione saremo e allora sono andato a controllare e ho scoperto che c'è stata una generazione che nel 1943 ha saltato la maturità ed era una generazione da cui uno di quelli che ha saltato la maturità era Andrea Camilleri un altro era Virginio Rognoni che è stato uno statista della storia della Repubblica e allora che cosa avevano in comune e avevano in comune c'è stata una generazione che aveva provato la rottura del fatto che anche l'iter scolastico non era più normale e che però hanno avuto un dato poi di resilienza e di resistenza nelle loro vite che le generazioni successive precedenti non avevano avuto quindi secondo me queste generazioni saranno delle generazioni più forti di come siamo stati noi perché quando erano giovani hanno capito che le cose non vanno sempre come si vorrebbe io avrei voglia di contestarti anche sulla speranza però non lo puoi fare perché il tempo è finito un applauso proprio a Mario Calabresi ma tu sei un genio purtroppo il tempo è finito e Paolo Giordano non può più smontare questa cosa grazie grazie a tutti grazie Paolo grazie